Un lavoro. Un nuovo progetto per me. Ogni volta faccio fatica ad uscire per un nuovo lavoro. Mi pesa il viaggio, il tempo speso per capire, per rapportarsi a questi umani nuovi, sconosciuti, la lingua incomprensibile. Poi comincio a intendere quello che le persone si dicono, l'esperienza mi viene, un fuoristiero integrato, ritorno rilassato, penso di energia, l'impressione di vivere. Conoscere le persone mi obbliga a uscire da me stesso. Mi accorgo che un luogo sconosciuto, terra incognita, mi accompagna nella mente, un tesoro ritrovato. E' bravo questo qui, tutta questa strada per me, si è nascosta nel buco del mondo. E qui il cielo è diverso. Solevo pensare a quei falchi come spirito messaggero, quasi volassero per dirmi qualcosa, delle parole per me che è illusi. Il mio cielo è colore televisore non sintonizzato, scompare nel buio dell'acciaio delle gallerie di città. Ritornavo a casa, emigrato per studiare, per lavorare, per fuggire al destino di mio padre. Non mi sono mai sentito a casa, in alcun modo. Rientravo per trovare mio padre, che assumeva la mia visita come medicamento al suo mare, alla sua solitudine. Mi trovavo al straniero in quella che fu la mia città, un tempo che mi sembra lontano. Un uovo vorrei tanto essere vecchio, ristaurato da capaci architetti, secondo le norme di una rivista specializzata, a cancellare il disordine che era della mia adolescenza. Le persone parlano a largo, come facevo io, prima che me lo facessero mentale. Forse non ho voglia di avere un'opinione efficace e corretta. A giorni era Natale. Mio nonno soleva partire da Busuri a piedi la mattina presto per giungere in centro in tarda mattinata a comprare il panettone per la famiglia, due chili, la pasticceria Marchese, Corso Magente. Mio zio continuò per una via più breve, solo una mezz'oretta, ed infine mio padre, che trovò nel testamento dello zio l'indicazione di una cifra da destinare al panettone per il futuro della famiglia. Non ho mai accompagnato mio padre nel tragitto familiare, mi rifiutavo. Sollevo attenderlo da bambino, alla sera, seduto su marciapiede alla periferia. Non mi stancavo di aspettarti, papà. Tu arrivavi sempre col tram delle sei. Quando solo incorporava le ultime case, uscivo ad aspettarti, mi fermavo a guardare le rotaie da dove sarebbe comparsa la lentezza della carrozza, che infine spunta, arriva quasi vuota. Scendono coppie, appannati lavoratori, un signore elegante, ma deve ancora scendere un passeggero oltre a bietta. Aspetterò il prossimo tempo. A piedi attraverso la città dovrei trovare la strada, se cerco nella memoria. Gli occhi si induriscono nello smog. Devo stringerli. Le luci si clonano, si alonano come in ogni quadratura elettronica. Come faceva l'uomo a fare tutta quella strada? Non so neppure dove sia la sua casa. Mi sembra di ricordare fosse un capolino, la linea 7. Ho il negozio di fronte ma il traffico è continuo, non riesco a vedere, a capirlo. Non capisco la via per arrivare là partendo da qua. Un uomo esce, tacchiato, un cappotto blu, un cappello umile in testa, il panettone, un pezzo immenso sulla mano, come fosse un cameriere nell'adempimento del compito. Il modo di camminare, i piedi leggermente rivolte all'interno, mi assomiglia. Cammina lungo le vie del centro storico, l'agilità goffa di chi conosce la via. Autoparcheggiata, della popolazione dello shopping che tracemano dalle boutique. Il rumore secco dei tacchi a spillo sul selciato. La mandibola ferma della donna che cammina, indurita dall'attrito scortese delle calzature, sul suolo anacronistico. Profumi intensi di lacchi e di ammorbidenti per pelli anziani mi distraggono da quel puntino blu che cammina in fondo alla strada. Devo correre. L'omino blu passa attraverso il fiume, il centro storico restaurato. Si avvia verso la fermata del tram e un vecchio quattro si avvicina. Lo prende. Sono bloccato al semaforo da una stazione di autobus che partono tutti in direzione apposta. Un altro quattro si avvicina. Salgo. Il legno oscuro degli infissi mi riporta un'area di casa. È ora di punta, ma nessuno sa. Sono solo. Si intravede il beretto del vetturino dietro la porta di legno. Ricordo la mano che muove la cloche in modo incoerente con la direzione del mezzo. Non ero un volante e io bambino non ne capivo la razza sottostante. Avrei voluto chiedere, ma dovevo scendere. Le curve fanno spaventare il vecchio acciaio che nitrisce di dolore per le lunghe strade. Sono al capolino. L'ospedale bianco vi siede imperioso. Mio padre morì là. Stavo tornando a casa da una città provinciale qualsiasi dove si fanno i soldi dopo una notte. Mi aveva tenuto la mano. Era fredda, teneva la stretta. Non era la prima volta. Avevo preso l'abitudine ad un viaggio precipitoso verso casa. Poi la corsa in ospedale. Uscì come altre volte. Presi un caffè con brioche. Non lo facevo mai. Appena il tram cominciò la corsa ci volando mi chiamarono. Corri, torna, è morto. L'omino blu cammina verso il frutteto all'ospedale. Dondallo lungo i binari. Il trenino che portava in periferia, lungo il fiume, che non c'è più, non ci sono più. Erano sporghi, tutte e due, lenti. Mio nonno ripescava i gamberetti anni fa. Come fa l'omino a non cadere? Porta ancora il panettone come sul vassoio. Sotto un albero un vecchio vestito di frustagno lo attende. Ha una cesta di gamberetti appena pescato. L'omino sorride. Sono andato io per il panettone. Lo appoggia e prende posto. Buona fortuna ragazzo, mi disse mio padre. Un vigile mi esorta da attraversare. Ha bloccato il traffico per me. Ma non si possono aspettare i miei comini. Mi è aggressivo ma ringrazio. La portavetria pasticceria si l'umbertino vuoto, un tango temporale, proiettando mi la vita esplosa di questa città. Una dolce signora mi sorride. Ha una camicetta di pizza come la nonna nella foto da ragazza. Vorrei un panettone, dei loro, circa due chili, signore, per gentilezza. Li abbiamo terminati, signore. E quelli? Sono premontati. che tipo questo qua. È venuto fino alla fine della strada. Come me. Che bravo questo qui. Dimostra cosa facevo in un tempo. La mistica dei monaci respira ancora. Mi porta pensieri pesanti. Sono qui peraltro. I falchi non c'entrano. Sono qui peraltro. Mi dispiace papà. Mi duole non aver incontrato l'amitezza che praticavi. Sono qui peraltro. Bene. Fatto. Con questi soldi dovrei farcela fino a dicembre. Poi vediamo. Ciao. Ciao.